Buongiorno, benvenuti dalla redazione web della città, ben trovati in questo lunedì 16 marzo. Cominciamo subito con la viabilità, andando ad ascoltare dalla voce di Walter Gerbi quali sono le notizie di oggi. Walter, a te la linea. Le notizie di oggi, in collegamento con la centrale operativa del Comando di Polizia Municipale di Torino. Buon lunedì 16 marzo. Le notizie di oggi, giornate dell'orientamento presso la Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università di Torino di Sia Ventimiglia. Luna Park Primaverile, al Parco Ruffini, sino al 13 aprile. Alle ore 10, presso la parrocchia Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, via Monterosa 150, funerale di Lorenzo Bollati, ucciso lunedì scorso di fianco all'ospedale San Giovanni Bosco. Le altre informazioni. Divieto di transito in via Giolitti, tra via Pomba e via San Francesco da Paola, per pulizia e affognature, sino a domani. E in via Cappelverde, tra via 20 Settembre e via Porta Palatina, sino a venerdì 20 marzo. Sino a sabato 28 marzo, per lavori A e S, rallentamenti in Corso Francia, angolo via Pozzostrada, via Lera, tra il civico 34 e via Sant'Antonino, via Monginevro, angolo corso Trapani, corso Raconigi, angolo via Pollenzo, via Serau, angolo via Monte Cristallo, via Tofane, tra corso Brunelleschi 89 e il civico 95. Rallentamenti in via Botticelli, tra i civici 82 e 141. In corso Ferrara, controviale Nord, tra via delle Primule e via Traves, in piazza Santa Rita e in via San Suino, carreggiata a ovest, tra corso Grosseto e il civico 205, per lavori Iride. Rallentamenti in via Feletto, tra corso Giulio Cesare e via Monterosa, via Galvani, largo Giacchino, angolo corso Mortara, via Isonzo, tra corso Rosselli e via Lancia, via Pacinotti, via Villa della Regina, tra via Moncalvo e via Diamonti, corso Vittorio Emanuele, tra corso Bolzano e via Morosini, via Sobrero, per lavori Smata di vieto di transito in via Guarini e in strada dei Tadini, in strada Valsalice e il civico 5 bis. Rallentamento in via Lucca, tra corso Cincinato e via Segantini e in corso Unione Sovietica, tra via Steffenone e corso Lepanto, carreggiata laterale ovest. È tutto, buon viaggio! Grazie Walter, erano molte le notizie di viabilità di questa mattina, noi passiamo a vedere il tempo, andando a vedere qual è la situazione in questo momento in città, la rilevazione dell'Arpa Piemonte sulla nostra on-page, ore 8, cielo sereno, temperatura intorno agli 8 gradi, vedete ancora l'umidità abbastanza alta, però questo non ci impedirà di avere una giornata di cielo sereno per tutto il giorno, temperature che saranno comprese tra i 5 gradi di questa notte e i 18 che raggiungeremo nel corso della giornata. Andiamo a vedere gli appuntamenti istituzionali di oggi, cominciata poco fa a Palazzo Civico in Sala Riunioni, la riunione della Commissione Emergenza Abitativa. Il Sindaco è in missione invece in Russia, con dei rappresentanti della Camera di Commercio, dell'Università e del Politecnico, in programma ci sarà una visita a Ekaterenburg e a Mosca. Trovate ulteriori dettagli anche sul numero di Torino Clic attualmente in linea. Tra poco comincerà invece a Palazzo Civico nella Sala dell'Orologio, la riunione della Quinta Commissione Consigliare in seduta congiunta con la Commissione Torino 2011. All'ordine del giorno abbiamo il bilancio di previsione 2009 per le materie di competenza dell'assessore Alfieri e l'interpellanza misteri e incongruenze dei restauri al Teatro Carignano. Alle 11 in Sala Colonna di Palazzo Civico la conferenza stampa di presentazione della Customer Satisfaction da parte dell'Agenzia dei Servizi Comunali alla presenza del Vicepresidente Coppola. Alle 13.30 come al solito la conferenza dei capigruppo preparatoria alla seduta del Consiglio delle Ore 15 che potrete seguire come sempre in diretta dalla nostra home page. E questa sera alle 21 al Teatro Carignano l'assessore Alfieri interverrà al concerto in occasione dei meno due di Italia 150. Vediamo dalle notizie del web della città la segnalazione di Torino Web News settimanale culturale l'edizione di questa settimana è dedicata alla mostra all'eredità di Inaudi che trovate all'archivio di Stato oltre naturalmente a tutti quanti gli appuntamenti culturali della settimana lo trovate a partire dalle nostre notizie in home page. Chiudiamo con le webcam, andiamo a vedere la città con le nostre telecamere qui siamo in piazza Palazzo di Città, in quadratura di Palazzo Civico ci spostiamo poi con le nostre webcam alle porte palatine poco distanti, illuminati dal sole di questa mattina in piazza Pitagora, zona sud della città abbiamo un po' di traffico in direzione Lingotto mentre nella zona nord alla rotonda autostrade non abbiamo traffico il flusso in entrata e uscita dall'autostrada sono tutto sommato molto tranquilli grazie per averci seguito, l'appuntamento oggi pomeriggio alle 16.15 grazie anche a Mario Parena per la parte tecnica a tutti voi l'augurio di una buona giornata